salva a tutti youtubers eccoci qua nella nuova serie che ho deciso di iniziare sul mio canale di nome astro tg ma in cosa consiste un astro tg ovvero la nuova tipologia di video che porterò sul mio canale da adesso in poi ecco adesso vi spiego brevemente di cosa si tratta allora ogni settimana di domenica uscirà un video della durata di 3 4 minuti massimo intitolato astro tg in un orario indeterminato ciò vuol dire che potrebbe uscire sia di mattina che di pomeriggio della domenica anche se credo che uscirà sempre di pomeriggio dove io vi spiegherò anzi vi racconterò tutte le notizie che sono uscite nell'ambito scientifico astronomico allora qual è lo scopo di questo video allora voi sapete bene che io durante una settimana porto più notizie possibili che riesco di astronomia fatti in un video naturalmente escono astronews escono anche video normali c'è veramente porto una varietà di video durante una settimana però nonostante ciò non riesco a portare tutte le notizie e questo video questa tipologia di video che uscirà una volta settimana quindi di domenica serve per fare mettere in mostra tutte le notizie anche quelle secondarie o comunque anche quelle che diciamo non avrebbero visualizzazioni su youtube perché io seleziono quelle più importanti quelle più interessanti quelle più intriganti di notizie e le faccio in un video o comunque le tratto in un video quindi quello è lo scopo e queste diciamo sono le piccole regole che io ho deciso di applicare a questa nuova serie quindi sarà un appuntamento domenicale di ogni settimana tranquilli usciranno sempre gli astronews e gli altri tipi di video quindi questo diciamo un video aggiuntivo sicuro che ci sarà ogni settimana allora partiamo quindi col primo astro tg della settimana e del canale allora come potete vedere qui ci sono quattro notizie su questo sito al quale io mi affido ansa scienza e tecnica da dove io prendo le notizie di astronomia anche questo vi devo dire io naturalmente in questo tipo di video dovrei portare tutte le notizie però se io dovessi aggiornarmi su tutti i siti che seguo di astronomia le notizie sarebbero veramente un sacco e non riuscirei diciamo a rispettare i limiti del tempo che ho deciso che dovrebbe durare questo astro tg quindi tre quattro minuti quindi devo comunque affidarmi a un sito io in questo caso mi affido a questo sito per chi mi segue sa che lo porto sempre in un astronews o comunque sapete che io mi aggiorno su questo sito qua perché lo trovo affidabile gestito da Gianluca Masi responsabile del virtual telescope sono ottimi articoli diciamo non ci sono errori e comunque sono sicuro che non sono diciamo notizie fasulle quindi questo è il mio diciamo sito di fiducia di astronomia in questo caso allora il primo articolo quindi la settimana che trattiamo oggi va dal primo giugno appunto alle 7 giugno ed eccoci qua nel primo articolo dove dice venero e giove si avvicinano nel cielo di giugno saturno ancora osservabile ho fatto un video a riguardo di questa notizia dove appunto parlo del cielo di giugno 2015 ovvero degli eventi astronomici che ci saranno nel mese di giugno quindi tutti gli oggetti celesti come asteroidi pianeti stelle o comunque costerazioni che si vedranno nel cielo di giugno poi abbiamo su marte aurore azzurre e luminose visibili a occhio nudo mai viste mai previste fino alla fuori dalla terra quindi questo articolo parla appunto che su marte sono state scoperte queste aurore azzurre e luminose e non era previsto che questo fenomeno si verificasse su un altro pianeta al di fuori della terra anche su questo ci ho fatto un video sul mio canale poi abbiamo la danza caotica delle lune di plutone a luglio il passaggio era avvicinato della sonda new horizons qui appunto parliamo delle lune di plutone parliamo della sonda new horizons della nasa che il 14 luglio 2015 si avvicinerà al pianeta plutone pianeta nano plutone anche su questo ci ho fatto un video se volete e poi l'ultima e diciamo notizia di questa settimana appunto rosetta scopre come nascono le code delle comete generate dagli elettroni vicini al nucleo quindi qua stiamo parlando della missione rosetta che nel frattempo anche se il lander filale sta ancora riposando e ancora in ibernazione la sonda rosetta che orbita intorno alla cometa 67b ciumolo gerassimenco la quale si sta avvicinando al sole ha scoperto come nascono le code delle comete che sappiamo che possono essere più lunghe della distanza che separa la terra dal sole ovvero più di 150 milioni di chilometri ecco questo è astro tg questo è astro tg che io porterò ogni domenica di ogni settimana un video diciamo dalla durata di tre quattro minuti dove io vi dico due parole su ogni articolo che è uscito durante questa settimana in questo caso vedete su quattro articoli che sono usciti questa settimana ne ho trattati tre sul mio canale e ad esempio questo non ho trattato avrei voluto trattarlo ma magari arriverà nei prossimi giorni e non aspettatevi che non arrivi quindi potrebbe arrivare nei prossimi giorni però per farvi l'esempio in questo caso io ho trattato tre argomenti su quattro durante questa settimana sul mio canale quindi io spero che questa nuova serie possa piacervi e spero che possa interessarvi e spero che comunque magari la seguite quindi ci rivedremo domenica prossima domenica 14 giugno con un nuovo astro tg vedremo che notizie usciranno che news usciranno nell'ambito scientifico astronomico passate nel canale di khyper tv che vi lascio il link in descrizione se per chi non sapesse chi fosse o comunque perché lascio il suo link in descrizione vado a vedersi l'astro news l'ultimo astro news che ho fatto sul mio canale dove spiego perché lascio il suo link in descrizione quindi per questo video è tutto io spero di essere stato chiaro mettete mi piace al video se volete ciò vedete grazie a tutti grazie a tutti